Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 16 ottobre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo bilancia. Mattinata da protagonisti con successiva uscita di scena. Mattinata da protagonisti con la luna nel segno, che nonostante la quadratura di Plutone continua a tenere banco e se in famiglia qualcuno vi dà controfate spallucce andando avanti diritti per la vostra strada. Non così esaltante il pomeriggio, ma nemmeno negativo, col passaggio lunare in Scorpione, dove la bianca signora incontra il rosso Marte, incoraggiando spese sopra le righe, indispensabili per addolcire un piccolo dispiacere di cuore o per tirarvi su in vista del lavoro che vi attende domattina. Ma perché pensarci proprio ora? Non rovinatevi la giornata libera, fate qualcosa per voi stessi o prodicatevi per qualcuno in difficoltà, uomo o animale che sia al vostro aiuto sarà validissimo. Giovane Bruno che potrebbe essere un corteggiatore o una persona interessata a voi, probabilmente uno studente, un commerciante, un piccolo imprenditore, un domestico. Giovani collaboratori fidati, colleghi giovani che vi aiuteranno, giovani soci ma affari fidati e onesti. Non ribaltate sugli altri le vostre responsabilità, soprattutto in amore. Amore è assumersi le proprie responsabilità in tutto e per tutto, anche prendendo decisioni importanti ma soprattutto definitive. Se avete un'avventura extracognugale trovate tempo e modo per fare un bilancio della vostra situazione, cercate di decidere se è il caso di portarla avanti e viverla ancora in sofferenza. Marte vi conferisce ancora una grinta particolare, potreste anche avere la forza necessaria per risolvere qualche costro problema personale e avere così più tranquillità e serenità. Abbondanza di amore in questo periodo, anche se non ve ne accorgerete subito, l'amore matura e porterà i suoi frutti. Cambiamenti in casa o di casa. Imparerai cose importanti dagli altri. Giorno movimentato. Riceverai saggi consigli da persone anziane. Marte in aspetto favorevole in serata vi donnerà o smalto e grinta utile per affrontare una serata che potrebbe essere davvero soddisfacente. Non esagerate però, in tarda serata, con l'egocentricità e ricordate che un pizzico di umiltà non guasta mai. Se ci sono state tensioni o incomprensioni con il vostro partner cercate di fare qualcosa insieme, come iscrivervi a una palestra, iniziare un'attività o altro, supererete meglio ogni difficoltà e saranno appianate le difficoltà. Attenzione alle illusioni. Sarà meglio non prendere decisioni affrettate. Sii gentile e paziente con i familiari. Un incontro romantico o in ogni caso emozionante. Siate più rilassati e fate bene ogni cosa, portate a termine ciò che avete intrapreso e non curatevi del giudizio degli altri. Ospitato nel vostro segno, Mercurio continua a spalleggiarvi e a farvi mietere successi, tanto nella sfera del privato quanto in società e nei rapporti interpersonali in genere. Chi nasce nella seconda decade avverte la grinta, la voglia di emergere, di esprimere la propria individualità in ogni campo. Chi invece nasce in settembre è pervaso da un desiderio di piacere e circondarsi di persone e cose belle. Se avete l'occasione di partecipare a eventi sociali sarete senz'altro gratificati dal vostro charme, dalla signorilità che saprete dimostrare. Mercurio favorisce i ragazzi che vogliano divertirsi con la movida. Protagonisti per tutta la mattinata con la luna raffinata ed elegante nel segno fiaccata però dalla quadratura di Plutone, vale a dire un ricordo del passato, un malessere, un malinteso che non riuscite a chiarire. Il fronte del cuore insomma è il più bersagliato, testimone il vostro astro guida Venere in dodicesima casa bersagliata dall'algido Saturno che chiude la porta a emozioni e piaceri. Per consolarvi nel pomeriggio spendete parecchio, sobbillati dalla coppia luna-marte in seconda casa che quando l'essere è penalizzato cerca compensazioni nell'avere. Amore ed Eros. Scornati in amore, se una storia è andata buca oggi trascorrete parte della giornata a leccarvi le ferite e a separare i ricordi cancellandone il 99%. Avete bisogno di far spazio nel cuore e liberarvi dagli orpelli che vi deprimono spingendovi a chiudervi in voi stessi. Non fa parte del vostro carattere così socievole e armonioso, il passato ha le proprie casseforti e chiusure che non dovrà travalicare. Ma l'umore in famiglia veicolato anche questo dovuto ai venti passati, cose che non dovrebbero più influenzarvi e invece. Per curare la vostra malinconia ci vorrebbe un quattro zampe, se il vostro ha passato il ponti dell'arcobaleno è tempo di riaprire il cuore al cuccioletto che da qualche parte del mondo vi sta già aspettando. Fuori luogo ogni forma di possessività, fa male a voi ma danneggia anche gli altri. Venere benefica promette alle coppie innamorate di tutte le età di avere maggiori occasioni di condivisione e di incontro rispetto alla normalità. Sempre il pianeta amico facilita una felice espressione dei sentimenti. Siete più morbidi e accomodanti del solito con la persona che avete accanto, stupendovi della sua volontà di voler stare con voi insieme in ogni momento anche in storia di lunga durata. Lavoro e denaro? Niente lavoro oggi, anche i creativi che potrebbero spendere la giornata tra pennelli, spartiti, utensili e materiali per il fa e date e finiscono per restare con le mani in mano, o utilizzarli al massimo per sfoderare il portafoglio. Demotivati in tutto, perfino riguardo ai borghi antichi, alle mostre e agli spettacoli che di regola vi entusiasmano. Pesante il lavoro se siete di turno, vi cirecate ma di certo senza fare salti di gioia. Fate buon viso a cattivo gioco con chi vi vuole mettere alla prova o sfidare. Se siete nati nella seconda decade del vostro segno, fronteggiate piccoli intoppi in ambito professionale, se di lunedì lavorate. Sarete poi voi a vincere. Benessere. Scontenti allo specchio, del resto quando non siete in forma anche la vostra bellezza perde qualche punto, fastidioso il bruciorino di gola specie per chi insiste a fumare come una ciminiera, come se le fabbriche non ne avessero già abbastanza, sempre attive nel buttar fuori fumi mefitici e inquinanti. Stanchezza più interiore che fisica, chiaro come il sole che avete bisogno di coccole. Per lei, raffreddore e mal di gola, primi segnali d'autunno che stenta a presentarsi ma c'è. Autunnale anche l'umore, in sintesi giù di squadra per un'inezia. Per lui, in giro per centri commerciali, alla ricerca di qualcosa di nuovo e utile per la casa. Basta elettrodomestici obsoleti, vita più facile anche in cucina. Colore delle emozioni, bianco latte. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 8, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.